Musica Resta critica alla situazione ospedaliera nel Cusentino in relazione all'emergenza Covid. 25 persone positive sono al pronto soccorso dell'ospedale annunziata di Cosenza, dove ieri si è formata anche una coda di ambulanze, in attesa di essere sistemate il reparto. Altre 13 sono nel pronto soccorso dell'ospedale di Rossano. Si chiude il cerchio sull'omicidio di Carmelo Polito, l'uomo ucciso il 1 marzo del 2011 a San Gregorio di Pona, mentre passeggiava per le vie del centro in compagnia del figlioletto di 6 anni. A quasi due anni di distanza dall'arresto di Francesco Pennace, di 34 anni, di San Gregorio di Pona, ritenuto uno degli esecutori materiali del delitto, nella serata di ieri i carabinieri del nucleo investigativo di Vibo Valencia hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico di Rosario Fiorillo di Piscopio, già detenuto nel carcere dell'Aquila, e Giuseppe Pennace di San Gregorio, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore del delitto. Una discarica abusiva a cielo aperto su un'area di 6.700 metri quadrati è stata individuata e sequestrata per violazioni in materia ambientale dai carabinieri forestali e dal personale della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, in Contrada Carosello a Rosarno, nei pressi della foce del fiume Mesima. Tre cumuli scoperti dai militari durante l'esecuzione del provvedimento sono stati trovati rifiuti ingombranti, speciali, pneumatici esausti, materiale di risulta dell'edilizia e lamiere di Ethernet. Il corallo rosso, quello nero e altri specie rare, mai trovate prima nel Marionio, sono presenti nella secca di Amendolara, sito di interesse comunitario su quella che mitologicamente era l'isola di Ogigia, dove per Omero Ulisse visse sette anni in compagnia della ninfa Calipso e che potrebbe diventare la secondaria marina protetta calabrese. I risultati della ricerca realizzata in quei fondali sono stati illustrati dall'assessore regionale all'agricoltura e al patrimonio ittico Geluca Gallo e dall'assessore all'ambiente Sergio De Caprio nel corso di una conferenza stampa nella sede della cittadella Iole Santelli a Catanzaro.